Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Fano, unica città delle Marche ad aver ottenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato una deroga al patto di stabilità per un importo di 1.400.000 euro per bonificare i siti contaminati dalla Mian Spettacolare incidente tra un furgone e un'auto feriti due conducenti soccorse in mare e tre persone finite in acqua dopo il ribaltamento di un catamarano La vergogna dell'Interquartieri un'opera infinita che oggi versa nel più totale degrade Fervono i preparativi per il palio delle contrade che si svolgerà alla pineta di Ponte Vitauro l'ultimo fine settimana di agosto Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri In diretta l'edizione delle 20 e 30 di Occhio alla Notizia ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV telegiornale che questa sera si apre con la notizia che arriva da Roma una buona notizia perché Fano Fano è l'unica città delle marche e fra le quattro in tutta Italia ad aver ottenuto un'aderoga al patto di stabilità per interventi di bonifica dell'amianto nelle scuole e negli edifici comunali per i lavori che termineranno entro il prossimo dicembre sono stati stanziati 1 milione e 400 mila euro Via l'amianto dagli immobili e dalle scuole del comune di Fano la Giunta ha infatti approvato due progetti preliminari per rimuovere questo materiale nocivo per la salute da 38 fabbricati da altrettante case coloniche da 18 scuole per un totale di circa 420 mila euro ha approvato inoltre l'avvio della spesa per gli studi tecnici necessari ad altri tre interventi la rimozione dell'amianto dall'ex ammattatoio e la demolizione dei fabbricati la sostituzione del tetto della palestra a Venturini e lo smaltimento dell'amianto dalla copertura interna del palazzetto dello sport Salvador Allende e il suo rifacimento la spesa complessiva per i lavori sarà di circa 1 milione e 400 mila euro grazie ad un'aderoga al patto di stabilità ottenuta dalla ragioneria generale dello Stato Questa è l'amministrazione che in 70 anni di storia repubblicana ha investito e sta investendo di più per la riqualificazione e il risanamento ambientale del territorio del comune di Fano un passaggio importante perché risolveremo nel giro di 4-5 mesi in maniera definitiva un problema annuoso che da decenni si trascina senza soluzione E' un traguardo storico ha commentato il sindaco di Fano Massimo Seri che orgoglioso definisce il risultato raggiunto straordinario ogni 15 giorni ha detto aggiungiamo un nuovo progetto per la città Sono solo 4 città in Italia che faranno un'opera come questa città importanti come Roma, Padova, Bari e c'è Fano ecco le cose non capitano per caso perché ovviamente l'abbiamo inseguita, l'abbiamo perseguita per cui sono molto contenti e dico anche che le sorprese non finiranno qua Per quanto riguarda gli interventi a carico dei privati cittadini invece si contano circa 700 pratiche presentate di cui l'80% dei casi trattati sono stati già risolti mentre il restante 20% sono in elaborazione E' importante assolutamente questo che questi lavori vengano pagati quindi progettati, appaltati, eseguiti e collaudati entro la fine dell'anno così che noi paghiamo entro la fine dell'anno quindi credo una rapidità eccezionale che richiesta al settore il settore lavori pubblici ha raccolto la sfida insieme al settore dell'ambiente e del patrimonio per le diverse competenze e noi confidiamo di raggiungere questo obiettivo molto importante E adesso la cronaca guardate queste immagini si riferiscono ad uno spettacolare incidente che è avvenuto nel pomeriggio di oggi in località Chiaruccia a Fano vicino al centro commerciale Metauro un'auto condotta da una donna di 33 anni fanese si è scontrata con un furgone che stava procedendo in via Settima Strada in direzione Bellocchi e che trasportava prodotti surgelati alla cui guida c'era un cinquantenne di Fano nell'impatto il mezzo si è ribaltato feriti i due conducenti che sono stati trasferiti al pronto soccorso di Fano sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di Fano Il degrado il degrado nella città di Fano questa sera vi facciamo vedere lo stato in cui versa una parte dell'interquartiere Ordoli e marciapiedi rotti da mesi chiodi sporgenti sulla panchina un dormitorio per persone in difficoltà e sporcizza ovunque l'interquartiere fanese è in completo stato di abbandono e come segnalato da una nostra telespettatrice giorno dopo giorno aumentano l'incuria e il degrado ma questi sono soltanto alcuni dei problemi segnalati uno di più pericolosi l'incrocio tra via Sandro Pertini e via Torquato Tasso Tempo fa, prima delle forti nevicate del 2011 c'era un cordo alla protezione che impediva l'attraversamento dell'incrocio che per essere utilizzato correttamente le auto devono percorrere allungarsi sulle due rotatorie di destra e di sinistra e utilizzare la circolazione nella maniera corretta secondo codice stradale purtroppo pedoni, motorini, ciclisti vedendo che si allunga di qualche decina di metri il percorso non utilizzano mai l'incrocio correttamente spesso ci sono incidenti e spessissimo purtroppo anche completamente contro mano per venire al supermercato entrano le auto in senso viettato nelle corsie contro mano nel giardinetto invece i bidoni dell'immondizia sono quasi sempre pieni e la pavimentazione del marciapiede è sempre più rovinata basterebbe davvero poco osserva con un piccolo intervento potrebbe essere risistemata questo luogo ha molto frequentato soprattutto la sera però ci sono diverse situazioni di degrado la panchina che comunque sia presenta assi rotte e assenti con viti arrugginite che sono anche fonte di pericolo i pezzetti di ferro che erano comunque sia utilizzati per il contenimento del cassero del getto quella è un'operazione che il muratore al termine della lavorazione naturalmente doveva fare attraversando via Sandro Pertini saltano all'occhio i tralicci dell'alta tensione con protezioni di sicurezza inadeguate e inefficaci oltretutto a pochi metri dalla pista ciclo pedonale percorso ogni giorno da famiglie con bambini per recarsi al vicino oratorio pochi metri più avanti invece dove una volta era previsto l'accesso al passaggio pedonale oggi una discarica a cielo aperto e al sottopassaggio diventato invece una giungla c'è un parapetto con transene provvisorie installate da più di due anni e fissate con fil di ferro questo servirebbe a protezione di una parte di ringhiera rotta da un camion che si rovesciò anni fa e nessuno precisa Manuela fatto sì che l'assicurazione del veicolo pagasse il danno arrecato alla cittadinanza eppure lamenta bastava che qualcuno seguisse la pratica senza arreccare alcun costo aggiuntivo a carico dei fanesi e questo punto invece è utilizzato da persone evidentemente in difficoltà per dormire come potete notare ci sono a dimostrazione appunto dei giornali e dei cartoni questa mattina gli uomini della guardia costiera di Fano e della capitaneria di Porto di Pesero hanno tratto in salvo tre persone che erano uscite in mare in barca a vela ad un certo punto il natante è scuffiato e l'equipaggio è finito in acqua dopo alcuni tentativi andati a vuoto di rigirare il catamarano noi tre hanno lanciato l'allarme al numero blu 1530 soccorsi da una motovedetta giunta da Pesero e da un gommone partito da Fano i tre sono stati tratti in salvo senza alcuna conseguenza grazie anche all'utilizzo di proprie dotazioni di sicurezza ancora segnalazioni le vostre segnalazioni ancora segnalazioni di degrado andiamo in via al Cide de Gasperi siamo nella zona di Sassonia Sud dove il nostro telespettatore ci segnala lavori di potatura di alcune siepi un po' eseguiti così così anche perché come vedete poi nessuno ha provveduto alla raccolta dei rami tagliati che sono stati poi lasciati lì per oltre sono lì da oltre una settimana mucchiati in un giardino adiacente all'edicola attorno ad un cartello stradale nonostante la segnalazione fatta dal telespettatore anche alcuni vigili urbani si sono recati sul posto per scattare delle fotografie però nessuno di fatto poi ha provveduto a rimuovere il materiale e scene da film western invece al caffè centrale di Fano di Corso Matteotti verso le 12.30 una giovane donna albanese sui 30 anni è entrata nel locale ed ha cominciato a rovesciare tutto ciò che le capitava sotto mano tazzine bicchieri zuccheriere poi in evidente stato di alterazione psicofisica si è rivolta verso una donna che era seduta ad un tavolo urlandole contro e strattonandola fino a prenderla per il collo con l'intenzione poi di sbatterle la testa sul tavolino il peggio è stato evitato solo grazie all'intervento tempestivo di un altro cliente che ha bloccato la donna la quale alla fine della sfuriata è uscita dal bar come se nulla fosse accaduto l'hanno rintracciata pochi minuti dopo seduta su una panchina gli agenti del commissariato di Fano che l'hanno accompagnata nel reparto di psichiatria dell'ospedale cittadino cambiamo di nuovo pagina dopo i lavori alla scuola media Padalino a breve partiranno anche quelli alla scuola media Nuti di Fano l'importo di questi lavori è di 150 mila euro saranno eliminate le barriere architettoniche verrà installato un ascensore sistemati i climatizzatori il piazzale d'accesso e gli infissi sono alcuni dei lavori in programma alla scuola media di Fano Matteo Nuti un edificio ancora nuovo ma che necessita di manutenzione e con 150 mila euro a disposizione del comune prenderà il via il cantiere che proseguirà anche durante la ripresa delle elezioni essendo autonomi infatti non dovrebbe creare problemi all'attività didattica nell'ambito degli interventi della scuola di Cucurano Carrara e dell'intervento sul Sant'Arcangelo abbiamo risparmiato una quota di spazi finanziari fuori patto che è di circa 150 mila euro considerato che la scuola Nuti aveva delle esigenze noi abbiamo approvato in giunta martedì un progetto esecutivo per 150 mila euro anche questo da eseguire completare entro la fine dell'anno e che risolvono questi problemi quindi anche questo è un progetto che va a risolvere dei problemi che c'erano su una scuola che la riqualifica e credo che sia un altro intervento che attesta la buona volontà e la capacità dell'ufficio ai lavori pubblici di affrontare e risolvere i problemi non appena trova uno spazio finanziario che può consentire la spesa Fervono i preparativi per la seconda edizione del palio delle contrade chi volesse partecipare potrà procurarsi un abito rinascimentale secondo i colori della contrada di appartenenza io Pandolfo dei Malatesta vorrò a loro e a loro vincitore un palio dallo grande valore e simbolico e di potenzia che la tenzone sia nominata la città di Fano torna di nuovo indietro nel tempo agli anni della signoria dei Malatesta per la seconda edizione del palio delle contrade e fervono i preparativi per l'evento organizzato dal gruppo storico Lappando il faccia con il supporto della proloco Fanum e Fortune che si svolgerà il 29 e 30 agosto prossimi alla pinita di Ponte Metauro La Pondolfalcia nasce 30 anni fa proprio per ricordare la venuta del Papa Giovanni Paolo al Ponte Metauro da lì nasce il gruppo storico La Pondolfalcia e quest'anno festeggia il suo compleanno all'interno del palio delle contrade e soprattutto della seconda edizione noi crediamo che sia un evento importante che già dallo scorso anno che era due giorni diventa una settimana di manifestazione medievale per la città di Fano Sarà quindi un tuffone passato fra tradizione folclore e storia unite per riportare alla luce usi e costumi attraverso momenti culturali collegati al palio innestata su una storia assolutamente vera di Fano che consente questa manifestazione di indagare con mostri collaterali la mostra sui vessilli storici le bandiere la mostra sul pellegrinaggio di Malatesta che veniva a Fano in 10.000 unità per la scampata peste proprio la chiesa di Madonna Ponte e soprattutto ci consente di ripartire con uno studio un po' trascurato negli ultimi decenni sul dominio malatestiano di Fano che ci collega con altre località turisti e culturali come Gradara, Rimini ma anche le province del nord che questa casata aveva governato ed ecco le quattro contrade che rappresentano la città Borgomuzzo rappresentato da Viviamo Centinarola con i colori verde e giallo comprende la trave Fenile Centinarola Fano 2 Fosso Segliore e Ronco Sambaccio Nero e Arancione per la Croce di cui fanno parte Caminate Metauriglia Ponte Sasso Tombaccia Ponte Metauro Treponti e San Lazzaro frazioni rappresentate da Cuidla dal Fium per Sebastiano con l'arci di Bellocchi vincitore della prima edizione sono compresi i residenti di Rosciano Montegiove San Cesario Magliano Cucurano e Bellocchi i loro colori saranno blu e rosso il comitato genitori Sant'Orso rappresenterà infine la contrada dell'assunta con il centro storico la zona mare il vallato Colonna e Sant'Orso ora non rimane altro che procurarsi un abito rinascimentale in base ai colori della contrada di appartenenza e partecipare da protagonisti Adesso andiamo invece a Monbaroccio dove sul sagrato del santuario del Beato Sante con un concerto verrà dato il via sabato agli eventi del mese di agosto Sabato 8 agosto abbiamo una bellissima serata culturale dove ci sarà la presentazione del libro Il Sarto di Monbaroccio e ci sarà proprio lo scrittore l'autore del libro Omar Di Maria che sarà presente a questa serata poi alle 9.30 alle 8.30 ci sarà la presentazione alle 9.30 avremo il coro giubilato di Candelara che canterà i canti francescani antichi Quello di sabato darà il via agli eventi programmati per il mese di agosto Sì giovedì 13 agosto avremo un evento importantissimo legato all'ambiente con la partecipazione del corpo forestale dello Stato nella zona di Montemarino dove si andrà a piedi dove sono stati piantati dalla Proloco da tutti i volontari due cipressi poi si ritornerà indietro e ci si fermerà nel casale Spadoni in via Montemarino 11 dove si potranno degustare i prodotti tipici del territorio poi avremo la tradizionale festa della tagliatella che è organizzata dal comitato della tagliatella in collaborazione con la Proloco che vedrà la chiusura di tutti gli eventi estivi di Montbaroccio Anche domenica prossima si svolgerà un'iniziativa importante Sì un'iniziativa importantissima domenica che va avanti dal 1517 dove i montbaroccesi hanno fatto un voto e quindi in pellegrinaggio alle 7.30 del mattino verranno su al santuario alle ore 9 verrà celebrata la Santa Messa alla presenza del Vescovo e di tutte le autorità civili e militari oltre che del comune di Montbaroccio di tutta la provincia Dieci squadre Dieci squadre si sfideranno in 30 ore 30 ore ininterrotte a Calcetto Calcetto non stop per contendersi il settimo memorial intitolato a Pamela Sbrega nel campetto della scuola primaria di Piagge È un evento che raggruppa un sacco di ragazzi e non è solo il solito calcetto ma è anche un momento di aggregazione sociale impegna tante persone però c'è la voglia e il gusto di ottenere dei buoni risultati A chi ora inizierà? Allora inizia nel pomeriggio del sabato e terminerà la sera della domenica con le finali è effettivamente chiamata 24 ore di calcetto ma dura una trentina di ore quindi non stop per diciamo tutta la durata del torneo e volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno dato una mano tutti i ragazzi di Piagge i vari sponsor e soprattutto anche il comune di Piagge Anche l'Avis di Piagge collabora con questa iniziativa? Sì certamente l'Avis di Piagge partecipa a questa manifestazione perché dove ci sono tanti giovani che fanno sport l'Avis bisogna che è presente in qualsiasi caso quindi come diceva il mio amico è un momento di aggregazione però per i giovani è una cosa molto bella Ed è stato organizzato anche un evento collaterale? Sì abbiamo organizzato un raduno di mountain bike che si svolge domenica mattina con ritrovo alle 8-8 e mezza per partire alle 9 e fare un giro per le campagne di Piagge quindi valorizziamo anche il territorio di Piagge Il sindaco di Fano Massimo Seri ha fatto visita ieri sera al ritiro dell'Alma Juventus Fano ad Apecchio accompagnato dal presidente Claudio Gabellini il sindaco ha prima assistito all'allenamento della squadra sul Prato del Comunale poi si è intrattenuto con tutto il gruppo per un breve colloquio siamo felici della presenza del nostro primo cittadino ha dichiarato il presidente Gabellini questo testimonia in pieno il feeling che c'è tra la città e la nostra società di calcio il gruppo si è poi spostato all'hotel Ghighetta per una cena conviviale a cui ha partecipato una delegazione del comune di Apecchio dalle allieve alla serie A femminile in sole due stagioni ha il traguardo raggiunto da Niki Buresti una giovane calciatrice dell'associazione sportiva dilettantistica Flaminia cercherò di andare oltre le mie possibilità ha commentato Niki cercando di non deludere allenatore e società che da sempre credono in me in fondo la vita è questa credere in un sogno crederci sempre e con queste belle parole si chiude qui il nostro telegiornale tra poco aspettando in Girper Fan e poi uno speciale dedicato ad un campo missionario occhio alla notizia finisce qui grazie per averci seguito arrivederci a domani grazie per aver guardato la notizia grazie per aver guardato grazie per aver guardato